con l'avvento del nuovo direttore ha fatto veramente un cambiamento notevole a prendersi alla città e diventando una sede, tantissime manifestazioni ma anche un soggetto culturale che propone, che quindi propone dei contenuti questa mostra mi sembra, non ho avuto tempo di guardarla con attenzione però mi sembra veramente molto molto bello anche l'allestimento molto più soprattutto direi un tema che ci è molto vicino di cui ci fa piacere parlare questa mostra è un esempio di come si può fare cultura in modo virtuoso ovvero sia i contenuti naturalmente sono stati messi a disposizione da Fuji ma non solo ha pagato anche l'affitto sale per due mesi quindi il direttore è molto fiero di aver concluso io sono grata perché naturalmente questo è un modo di rendere vivibili e sostenibili le nostre istituzioni culturali grazie, grazie di essere qui e buona notte a tutti grazie a tutti grazie a tutti